Una tripletta, quella di domenica, che ha infiammato i cuori dei tifosi, ti sei perfettamente ambientato a Castiglion Fiorentino, hai ritrovato la forma di un diciottenne. Era una cosa che è partita l'anno scorso, ho deciso di venire a Castiglion Fiorentino ad ottobre, dopo un girovagare un po' per tutta l'Italia, sono tornato in un posto dove mi sento veramente a casa e l'anno scorso l'abbiamo culminato con la vittoria del campionato, quest'anno è ripartito un progetto altrettanto importante e siamo partiti con il piede giusto, ma il campionato è molto difficile, molto impegnativo, dobbiamo stare concentrati domenica per domenica. Sicuramente un uomo, un calciatore della tua esperienza può aiutare in un campionato come l'eccellenza? Ma è quello che desidero, è quello che poi la mia missione, la mia missione è proprio questa, perché quando abbiamo parlato con la società l'anno scorso, dopo vari tentativi di portarmi a Castiglion Fiorentino, a Castiglionese, era proprio questo l'intento, cercare di far crescere prima di tutto l'ambiente, anche se poi è un ambiente sano, vero, genuino, che il calcio lo mastica in maniera fortemente vogliosa. L'obiettivo rimane la salvezza oppure, visto questo inizio, magari cominciate a sperare in qualcosa di più? L'obiettivo ben fisso ce l'abbiamo in testa, siamo ben concentrati per poter arrivare a quell'obiettivo alla fine del campionato.